Vado avanti, ho massima fiducia nella magistratura e non mi dimetto. Così il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, rompe il silenzio dopo la decisione del GUP Claudio Lara di rinviare a giudizio tutti gli undici imputati coinvolti nel caso Coingas e di condannare Sergio Staderini e Jacopo Bigiarini che avevano optato per il rito abbreviato. Il processo per tutti inizierà il prossimo 2 novembre. A seguito della decisione del giudice del Tribunale di Arezzo era poi arrivata anche la richiesta di dimissioni avanzata dal Partito Democratico e rispedita adesso al mittente dal primo cittadino accusato di favoreggiamento e abuso d'ufficio tramite una lunga nota. So quello che merita questa vicenda, ho fatto e soprattutto non ho fatto, scrive Ghinelli. Sono assolutamente certo che il processo farà chiarezza definitiva sul mio operato così come sull'intera vicenda. Ho massima fiducia nella magistratura, chiedo solo un rapido svolgimento del processo. Circa la richiesta di dimissioni che mi perviene dal Partito Democratico devo dire che non mi sorprende ma devo deludere gli amici del PD. La città di Arezzo, pur consapevole della mia posizione in merito alla vicenda, il 5 ottobre 2020 mi ha dato piena fiducia per rivestire il ruolo del sindaco per i prossimi 5 anni. Intendo onorare fino in fondo questo incarico. Chi mi conosce sa che sono un combattente e che non mi arrendo davanti a nulla. Questo è il momento della verità per tutti. Io per primo devo tenere la testa alta e la schiena dritta, conclude se voglio che lo facciano i miei concittadini in un momento così difficile.